Amore? 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 Hai visto che era un odoro? Ah! 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 Licenzio, Licenzio Riccardo. Riccardo ha terminato per oggi. Riccardo lo stunt ha terminato per oggi. Allora salgo sopra al tetto. E il resto là. Non stai sul tetto seduto. Mamma! Mamma! Non mi sono fatto niente! Adesso devo fare la parte dello stunt. Perché lo stunt è affogato. Ho la muta sotto. Più piccola di sette taglie. Quindi spero. Pronti? Siamo pronti! Siamo pronti? Faccio salire il cavo. Ok! Azione! Amore? Mi sa che non frenava! Ah! Uffirmato! Spaz! E fare parte! Grazie! Grazie a te! Grazie.